Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day To the things I wish would die Like buffets All that and much more Listen to Mobituaries with Mo Rocca Wherever you get your podcasts Ci sono momenti nella carriera di un artista Ci sono momenti d'oro Momenti in cui tutto quello che tocchi Diventa fenomenale E non è solo un discorso commerciale È un discorso proprio qualitativo Quel momento in cui sei baciato da Dio È successo a tanti artisti Abbiamo tante dimostrazioni di questo fenomeno Artisti che poi non è che ti ci spariscono Però continuano magari a fare musica Fanno anche più vendite Però Passa quel momento Ecco In questo istante È Blanco Il detentore Di questa aura magica Che ha addosso È Blanco Che qualunque cosa tocca È oro E insieme a Mahmood I due stanno veramente Creando una combo micidiale Con la differenza È che Mahmood L'ha avuto già a quel momento E adesso Sta giocando di contenimento Sta avendo una seconda esplosione In verità Mentre Blanco È esploso È iniziata la sua onda E anziché fermarsi un attimo È continuata In maniera Travolgente Fino a condensarsi In questo Sanremo Che Lo sta veramente vedendo brillare Come pochi E la scelta del brano è giusta La scelta del brano è È perfetta per quelle voci Ha tutto questo brano Malinconia Una melodia dolce La conoscono Lo conoscono tutti E loro lo hanno fatto loro L'hanno modernizzato Senza togliere nulla Aggiungendo e basta Loro stessi E quindi io alzo le mani Tanto di cappello Perché con questa cover Si sono meritati Il primato secondo me Si sono meritati Ma poi sono tutti d'accordo Tutti d'accordo Giovani Vecchi Bambini Sono tutti d'accordo Non è inutile a dire E sono stati bravi Sono stati perfetti Li quotavano Erano quelli più bassi Li quotavano 5.5 Cazzo Vedi a scommetterci Si Si moltiplicava per 5 La quota Ed erano anche i favoriti A tornarci indietro Ci rimettere 500 euro Però giustamente Vai a rischiare 500 euro Anche perché non lo sai C'è Elisa lì dietro Che Però ragazzi Questa canzone Già è un capolavoro di suo E il capolavoro E quella Originale Certo però L'hanno fatta bene Sono stati forti Rispettosi Educati Simpatici Non ho nulla da ridire Nulla Veramente Complimenti Perché Si sono fatti Questo festival Da protagonisti E con stasera Confermano Con un singolo Veramente Con le palle Che Onestamente Non lo sto riascoltando Qualche canzone di Sanremo Me la sto ricuccando Nel corso del giorno Quella di Argentavico Mi fa impazzire Però ecco Questa canzone Di Blanco E Mahmood E' vera Quando l'ho sentita Ho detto Ok Avete azzeccato la mossa Avete fatta bene Ma ci mettono il cuore Ci mettono le emozioni Sono i fattuti Golden boy Della scena musicale Italiana E gli auguro Veramente tutto il bene Del mondo E coloro fare moderno Magari davvero Andando all'Eurovision Possono poi Eguagliare Un successo internazionale Senza cantare in inglese Potrebbero anche farlo Potrebbero anche farlo Sì perché no Perché lo stile A volte Parla più della lingua stessa Da Supreme Diceva Su Blanco Che lo copiava Che era suo figlio E' vero Blanco non è in grado Di fare quello Che fa da Supreme Ma da Supreme Non è in grado Minimamente Di fare quello Che fa Blanco L'eleganza incontra La tecnologia Lancia Ypsilon Da oggi Nei nuovi allestimenti Oro Platino Ed Eco Chic GPL Partono gli incentivi Lancia Gamma Ypsilon Hybrid Da 139 euro al mese Con finanziamento Interessi zero E rottamazione E dopo un anno Puoi tenerla O sostituirla Anticipo 1600 euro 11 rate Da 139 euro E rata finale 12.058 euro Tanzero TAIG 381 Offerta soggetta Ad approvazione Stellantis Financial Services Fino al 31 dicembre Fino al 31 dicembre